La rezza ha giocato anche da provinciale. Dopo il vantaggio avete difeso e sofferto a tratti in questa partita. Quanto è prezioso questo 1-0? Direi che è fondamentale per il nostro percorso. Le ultime due partite le avevamo giocate meglio, avevamo raccolto meno di quanto meritavamo, quindi oggi assolutamente dovevamo tornare a casa con i tre punti. L'abbiamo fatto, abbiamo sofferto, però ci sta perché tutte le partite sono difficili. In questi campi non è mai facile venire a giocare, loro erano molto aggressivi, quindi ci hanno messo in difficoltà, però abbiamo ottenuto i tre punti e era questo quello che contava oggi. Sul piano del gioco sicuramente oggi non è stata una delle vostre migliori prestazioni. Ti chiedo rispetto comunque anche ad ottobre, quando la squadra era in crescita, soprattutto a Pian Castagna avevate fatto sicuramente un'ottima partita. Oggi siamo un passo indietro, anche domenica o il Montemurlo siete andati un po' a tratti. Ti preoccupa un po' un'involuzione sul piano del gioco in queste ultime due partite oppure no? No, assolutamente no. Spostare in una partita così, magari dove il risultato era fondamentale, quindi eravamo forse un po' bloccati anche loro. Comunque ci hanno messo in difficoltà perché ci venivano a pressare alti e non ci permettevano di giocare bene la palla. Poi anche il campo non ci aiutava perché non faceva dei rimbalti regolari il pallone, quindi ci siamo dovuti un po' adattare. Abbiamo sofferto, ma occasioni loro clamorose non me le ricordo. Noi potevamo chiudere la partita e non ce l'abbiamo fatta, quindi abbiamo sofferto un po' fino alla fine. Non sono preoccupato per la partita di oggi, per il modo in cui l'abbiamo giocata. Ci siamo adattati e penso sia una cosa importante. Forse un altro passetto in più che abbiamo fatto, abbiamo dimostrato di saper vincere anche questo tipo di partite in un campionato così duro ed equilibrato è importante. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS